L'assessorato ai servizi sociali del comune di Oristano ha pubblicato la graduatoria definitiva dell'intervento nidi gratis. Con questo provvedimento vengono assegnate risorse per sostenere l'accesso ai servizi per la prima infanzia tramite l'abbattimento della retta per la frequentazione in nidi e micronidi pubblici o privati. Osserva l'assessore ai servizi sociali Carmen Murru. Sono rimborsabili i costi dei servizi riferiti al periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre del 2021. L'intervento non preclude l'accesso ad altre misure di sostegno alla conciliazione lavoro famiglia e può essere richiesto per ogni minore del nucleo al di sotto di tre anni. Due le finestre temporali previste dalla regione. La prima per i bambini frequentanti i nidi da gennaio a giugno del 2021 e la seconda per quelli frequentanti da luglio a dicembre sempre del 2021. La graduatoria approvata dal comune riguarda la seconda finestra da luglio a dicembre del 2021.